Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo nel sestiere di Canariggio, alla Madonna dell'Orto, verso la Laguna Nord. Qui vediamo sulla sinistra la scuola dei mercanti, a testimonianza degli stretti rapporti commerciali della zona con i territori della terraferma. Il campo è dominato dalla facciata della chiesa della Madonna dell'Orto, tipico esempio di gotico veneziano del primo quattrocento. Conserva ancora la pavimentazione in cotto a spina di pesce precedente al settecento, quando la città fu lastricata con le attuali pietre di trachite. Il portale riccamente decorato fonde gli elementi nuovi dell'arte rinascimentale con quelli gotici prevalenti. Sulla sommità la statua di San Cristoforo a cui la chiesa è dedicata. Il nome di Madonna dell'Orto, infatti, deriva dal ritrovamento in un orto vicino di una statua della Madonna ritenuta miracolosa. All'interno prevalgono le opere del Tintoretto, che in questa chiesa fu sepolto. Prima fra tutti è più conosciuta la rappresentazione di Maria al Tempio. Vi sono anche Mosè, riceve le tavole della legge e il giudizio universale, il martirio di San Paolo e l'apparizione della croce a San Pietro Vescovo, alcune figure femminili che rappresentano le virtù e Sant'Agnese che ressuscita il figlio del prefetto Licinio. Sono presenti inoltre altri grandi artisti, quali Cima da Conegliano, Tiziano, Vandicche e Giovanni Bellini, la cui opera è stata purtroppo trafugata e al suo posto è stata collocata una copia. Con l'immagine della chiesa vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video su Venezia.